Filippo, servivano delle certezze non solo per la squadra ma anche per te dopo un periodo comunque non semplicissimo. È arrivato anche un gol ma in generale una prestazione di 90 minuti importanti per il finale di stagione. Sicuramente quest'anno ho pagato un po' la condizione iniziale, non facendo preparazione, mi ha portato un po' di problemi all'inizio, poi ho avuto una ricaduta e non gioco da un po'. Sicuramente queste amichevoli mi servono anche per mettere benzina nelle gambe, sono contento della prestazione di oggi. Mi metto a disposizione della squadra perché c'è bisogno di tutti per questo rush finale. Quanto sei vicino alla miglior forma? So che non giocando più è difficile però... Ma sì, il miglior allenamento è la partita, quindi queste amichevoli possono servire per mettere minuti nelle gambe perché ha giocato meno, perché è stato fuori parecchio, però sicuramente la condizione c'è, posso solo migliorare giocando e 20, 30, 40 minuti è quanto il mister chiederà. Se il mister chiama sei pronto? Certo, certo. Ranieri dice spesso, o meglio sottolinea spesso l'importanza di quelli che giocano meno. Tu e gli altri che avete meno possibilità, come vi sentite e come volete aiutare il Cagliari? No, no, siamo un grande gruppo, lo stiamo dimostrando, ci alleniamo benissimo tutti quanti, ognuno rema dalla stessa parte, chi gioca di più, chi gioca di meno. L'importante è raggiungere l'obiettivo di squadra, che è la cosa veramente più importante per tutti, per la città, per il Cagliari e per noi. Grazie. Grazie.